Dopo le polemiche dei giorni scorsi a seguito delle lettere del Ministero delle Infrastrutture inviate al Presidente della Provincia d'Orsi che mettevano paletti sulla costruzione di un aeroporto nel territorio agrigentino, il Presidente dell'Enac Vito Riggio arriverà ad Agrigento lunedì prossimo 8 marzo. La visita di Riggio è stata voluta dal Senatore del PD Benedetto Adragna che ha presentato un'interrogazione parlamentare urgente sulla vicenda e in un incontro con Riggio ha chiesto un definitivo chiarimento sul ruolo e responsabilità di tutte le istituzioni coinvolte in questa fase preliminare per la realizzazione dell'infrastruttura. Alle 10.30 il Presidente dell'Enac incontrerà in Prefettura il Prefetto Umberto Postiglione, il Presidente d'Orsi, le autorità locali, al fine di fare il punto sull'ormai intricata vicenda dell'aeroporto che ha portato il Presidente della Provincia a trasferirsi in una tenda. Poi alle 11.30 Riggio terrà una conferenza stampa. Riggio, dichiara Adragna, mi ha confermato quello che ha sempre ed ogni sede affermato. Non c'è spazio oggi in Italia per nuove infrastrutture aeroportuali, anche per le determinazioni che il Parlamento sta assumendo riguardo a precise direttive della Comunità Europea. Cosa diversa è una viopista con le caratteristiche presentate dalla provincia di Agrigento, sulla quale l'Enac non ha dato alcun parere contrario. Continua invece ad avere la sua ferma convinzione sull'infrastruttura il Presidente della provincia, Eugenio Dorsi. Da questo incontro addetto si dovranno avere chiare risposte sulla possibilità di realizzare l'aeroporto per sgombrare il campo da tutti gli equivoci e dai rimpalli di responsabilità a cui abbiamo assistito in questi mesi. Proprio il Riggio arriverà da Agrigento lunedì, doveva venire sabato apposticipato. Cosa si aspetta dall'incontro? Intanto una cosa è certa, il Riggio non arriverà con un aereo perché non c'è una pista dove lui potrà atterrare. Arriverà sicuramente con qualche elicottero, con qualche macchina. Io li invito a venire con la macchina, con l'automobile e creare e vedere di persona cosa significa raggiungere Agrigento. E vedere di persona cosa significa arrivare in una delle città più belle del mondo, purtroppo isolata, purtroppo marginale, purtroppo sud nel sud. E allora qualche volta nasce il dubbio nel ritenere che forse la vogliono fare rimanere così. Con il Riggio, onestamente, desidero fare un discorso chiaro dove con chiarezza si dica effettivamente quali sono le nostre possibilità. Siccome il Riggio, questo discorso chiaro, me lo fece sette mesi fa e mi ha fatto percorrere questo tratto di strada, desidererei che confermasse quello che lui mi ha detto a Palermo, e cioè che l'aeroporto di 1500 metri si poteva fare. Grazie.